E' stata siglata ieri mattina presso il Tribunale di Teramo la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Teramo e lo stesso Tribunale relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità. L'accordo è stato siglato dal Sindaco Maurizio Brucchi e da Marina Tomolini, delegata dal Presidente del Tribunale Giovanni Spinosa. L'iniziativa rende operativa una delibera approvata all'unanimità al Consiglio Comunale lo scorso 27 maggio su proposta del Consigliere Pasquale Tiberi. Più in particolare si tratta della possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria in caso di guida in stato di ebrezza con quella del lavoro di pubblica utilità da espletare presso una pubblica amministrazione, in questo caso presso il Comune di Teramo. La prestazione che sarà effettuata contempla un'attività non retribuita in favore della collettività. Secondo quanto sancito nell'accordo, la prestazione avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva stabilita e della conversione della pena pecuniaria. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice può disporre la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente e può revocare la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con il ripristino di quella sostituita e della sanzione connessa. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena non più di una volta. Grazie. Grazie.